Padre Amado, prima di iniziare, Signore, ti vorrei ringraziare, Papà, per la Tua presenza, per la Tua, Signore, immensa fedeltà. Possiamo contemplare, Signore, già, Signore, la Tua gloria in questo luogo, Padre. Ti chiedo anche, Spirito Santo, guidami, Signore, nel parlare, guidami, Signore, in dare, Signore, la parola che Tu, Signore, hai messo nel mio cuore, la parola che viene dal Tuo trono, la parola che edifica, la parola, Signore, che sana, guarisce e libera, Padre. Che non esca niente della mia bocca, Signore, che non sia nella Tua volontà, Padre, meno di me più di Te, Signore, perché a noi serve, Signore, solamente quello che Tu sai che è buono per noi, Papà, e noi vogliamo solamente la Tua presenza. Amè? Ringraziamo a tutti per essere presenti, preghiamo anche per le persone che, per qualsiasi motivo, oggi non ci sono. Non salutiamo i nostri pastori, perché sono sicura che da Roma, da dove stanno, stanno guardando, saluta la Chiesa, e non vedo l'ora di tornare. Amè? Allora, tutto parte, questa settimana, dall'incontro delle donne, che abbiamo fatto a Bari. Abbiamo parlato del Segunda Re, di una donna, una donna dove il Signore inizia già parlando, Deborah, moglie del Fa, no? Deborah, donna, moglie. Deborah, guerrera. Abbiamo affrontato questo discorso mercoledì, di come il Signore si usa di qualsiasi persona, sia uomo, sia donna, no? Per lui non c'è distinzione, perché il mensaggio è quello che dobbiamo passare, no? Portare avanti la sua missione. Però, quello che mi ha chiamato l'attenzione, Deacono, era della obbedienza di Deborah. Con tutto che era una donna, lei non si è scoraggiata. Lei ha ascoltato quello che Dio ha messo nel suo cuore. Andato da Baracche, questi capo d'esercito, e hai detto, Baracche, il Signore ti dice di andare lì a guerriare, a combattere contro il popolo inimico. Però, quello che non mi è piaciuto, è la risposta di Baracche. Lui dice, Deborah, se tu vai, io vado. Quindi, lui, non ha messo Dio come primo posto, no? Deborah, se tu vai, io vado. Con tutto che era una ordine diretta da chi? Da Dio, giusto? Dio non ha mai perso una guerra. No? Chi legge una parola sa che Dio combatti in primis, no? In prima linea. Quindi non ha mai perso una battaglia. E dice a lui, vai e combatti. Di a Baracche di andare lì a combattere. Ma lui mette tutto il suo, come dire, lui invece di credere direttamente, solamente, esclusivamente a Dio, lui crede a una donna, nella forza di una donna, no? E è proprio quello che molte volte ognuno di noi facciamo. Dimentichiamo chi è Dio nella nostra vita. Dimentichiamo la grandezza di Dio, un Dio che ci ha creato, un Dio che ha fatto cielo e terra, un Dio che ha fatto ogni cosa. Dimentichiamo queste cose, perché stiamo più concentrati nelle nostre capacità, nel quello che noi siamo. O stiamo aspettando qualcosa da qualcuno o da qualcosa. Nel stesso secondo re, loro dovevano combattere con un uomo, con un altro re, che aveva dei carri di ferri. Lui, queste Baracche, ha avuto paura dell'arma del nemico, perché per lui l'arma del nemico era più poderosa di Dio. Molte volte anche noi passiamo per questa situazione. E stiamo più preoccupati, no? Vediamo più quelle che sono le nostre difficoltà, le nostre pietre d'inciampo, e non quello che Dio ha promesso. Se lui ha promesso che lui starà con noi in ogni momento, che lui è la nostra forza, no? Che lui è il nostro scudo, perché avere paura? Perché avere paura? Perché non riconoscere che lui ha già vinto ogni cosa, che lui ha già compiuto ogni cosa? Ma la cosa più triste ancora è che Dio, con tutto ciò che Deborah è iniziato, Deborah è andata a combattere con Baracchi, hanno vinto. Hanno vinto una guerra. Ma l'onore Dio ha dato a un'altra donna, che in legge poi, secondo re, leggete 4, 5, 6, parla di questa donna che è uscita questo re. Sabe come? Questo uomo, questo re, va a casa di questa donna, chiede acqua, si addormenta, si addormenta, e nel frattempo che lui stava lì, che si è addormentato, lei prende una stacca e l'uscita. Una semplice donna. Non è stata Deborah, la guerrera, non è stato Baracchi, che era il capo dell'esercito di Dio, ma è stata quella semplice donna. Vedi? Come Dio usa chi vuole, quando vuole, perché è lui, è lui che pone ogni cosa. Non sono le nostre forze, non sono le nostre capacità, e il Signore mi ha portato a dire, Dio è il mio popolo, quali sono i miei attributi? Perché molte volte loro dimenticano chi io sono. Loro stanno più concentrati neanche quello che loro sono. No? Prendiamo esempio delle persone che sono state obbedienti da Dio. Il libro sta pieno, no? La parola di Dio sta piena delle personaggi. Molte volte le persone dicono, io voglio essere come Mosè, io voglio essere come Abramo, io voglio essere come Giacobbe. Prendi, no? Ogni persona, ogni personaggio per dire, io voglio essere come loro, come Josué. Ma io dico, io voglio essere come Gesù, il verbo vivo, incarnato, il Dio vivo, no? Io voglio essere come Lui. E tu dici, ma va bene, anche loro sono stati citati nella Bibbia. Certo. Però dobbiamo vedere il perché sono citati nella Bibbia. Sono citati perché sono stati fedeli. Sono stati fedeli e obbedienti. No? La parola dice che sì, dobbiamo prendere esempio, ma prima di prendere esempio di loro, dobbiamo prendere esempio di chi erano loro in Dio. Giusto? Ognuno di loro hanno passato per le prove, perché tutti prima di noi hanno passato per le prove. Ma sono stati obbedienti. C'è chi meno, c'è chi di più. Giusto? Quindi, oggi iniziamo con gli attributi di Dio. Gli attributi assoluti di Dio. Perché io non posso andare avanti con il mio percorso cristiano, perché siamo cristiani, perché seguiamo Cristo, Gesù Cristo vivo, risolto, che è dal suo trono, che ci guarda, anzi è qui. Il Dio padre è nel trono, ma il Dio figlio e il Spirito santo è qui con noi. Perché sono tre in uno. Lui è tre. Giusto? Lui che ci guarda e dice, figli miei, prima di ogni cosa, riconosce chi io sono. io sono Dio. Io non posso fare un qualcosa per Dio se io ancora non conosco Dio. O penso di conoscere. Tutti quanti dicono, ma io non conosco Dio. Ma io posso conoscere Dio. Come? Attraverso la parola. Vuoi conoscere Dio? vedi che era Dio da Genesi a Apocalipsi. Non è così difficile conoscere Dio. Non è così difficile conoscere il pensiero di Dio. Perché il pensiero di Dio è buono, è perfetto, è gradito. Giusto? Un Dio che dà il suo figlio unigenito per amore di noi, chi è questo Dio? È la rappresentazione del proprio vero amore. Giusto? Quindi, leggiamo il primo verso. Il primo attributo è Dio è onnipresente. È presente ovunque allo stesso tempo. Salmo 139 712 Che c'è la Bibbia? Mangiamo cibo buono questa mattina. Iniziamo già aprire la nostra Bibbia e imparare a gustare di questo cibo meraviglioso perché se io voglio conoscere Dio, voglio vivere Dio, voglio conoscere ancora ogni giorno sempre di più, se io non apro la mia parola che è il libro di Dio, io non posso conoscere Dio. 139 712 Dice così Dove potrei andarmi? Lontano dal tuo spirito. Dove fuggirò dalla tua presenza? Non possiamo fuggere dalla presenza di Dio. Dove andiamo senza Dio? Da nessuna parte. Non possiamo. Lui è l'essenza di tutto. Io non posso ricordare Dio solo quando io sto male. io devo ricordare di Dio in ogni momento, in ogni situazione. Io devo ricordare che Dio è vivo dentro di me, che con Lui posso ogni cosa. Lui è un presente. Io non non mi arrabbio, mi dispiace, sono dispiace, ma dove sta Dio? Io sono sola. Dove sta Dio? Non mi sento, non mi ascolto. Questo è una bugia. Dio Dio è ogni presente, vuol dire che sta in ogni momento presente dovunque noi andiamo. Anche quando noi stiamo dormendo, Dio è lì con noi. Lui non dorme. Il guarda di Israele non dorme. Non dorme. Siamo ciechi, siamo sordi, siamo disobbedienti. Noi. Siamo infedeli noi, ma Lui è Dio. Dio è onisciente, che significa che Dio sa tutto. Dio possiede una conoscenza completa, perfeita di tutto. Leggiamo il Salmo, non, Geremia 17, 9. Lui sa ogni cosa, sa le nostre azioni, sa i nostri pensieri, prima ancora, prima ancora che tu ti sveli e pensi, Dio già sa quello che tu devi pensare. Prima ancora che tu parli, Dio sa già quello che tu devi parlare. Prima ancora che tu dai il primo passo per agire, per fare qualcosa, Dio sa già quello che tu devi fare. Perché Lui è Dio. Io non posso sapere, Paoletta, che mi guarda con quegli occhi, con il coricino, se lei sta pensando una cosa buona o brutta. Mi sta sorridendo, no? Giustamente i miei occhi naturali fa pensare che lei sta piacendo, no? Che sta dicendo, mi piace. però dentro del suo cuore lei può stare con un altro pensiero. Giusto o no? Quante persone apparentemente è così, no? Che con una faccia dimostra una cosa però dentro c'è tutto un altro. Quante abbiamo già passato per queste cose, no? Di tradimento. che con una faccia